Molto soddisfatto, è un'approvazione tempestiva perché penso sia un record, mai si era arrivata l'approvazione il 22 dicembre, ma soprattutto per i contenuti di questo bilancio, perché da un lato abbatte il disavanzo e l'indedipitamento di mezzo miliardo, ovvero 500 milioni di euro, e dall'altro libera risorse grazie alla norma Salvabruzzo, nel rapporto speciale che abbiamo avuto con il Governo, a favore di tanti settori della comunità regionale. Un bilancio che prevede più fondi per il sociale e per la disabilità, ma non solo? Sì, più fondi per il sociale, il caregiver, la disabilità, la non autosufficienza, abbiamo raddoppiato le risorse per la vita indipendente, abbiamo inserito 2 milioni di euro in più per il trasporto dei diversamente abili, e quindi ci sono più risorse anche per il trasporto, ma abbiamo investito ulteriormente sulla ricerca, 800 mila euro per il cruel pericotir, siamo intervenuti sui parchi, le riserve con più 300 mila euro, ancora più 300 mila euro rispetto allo scorso anno sul fondo della cultura, e ancora ulteriori interventi a dimostrazione che quando finalmente il bilancio riesce ad essere solido, si libera del peso del passato, di quel debito mostruoso, e riesce a costruire una filiera importante con il Governo nazionale, si riescono davvero a dare delle risposte significative. E io voglio dirla, da un lato poi ci sono davvero le chiacchiere e la demagogia, e dall'altro ci sono le risposte. Anche qualcun altro poteva immaginare di fare la norma salvabruzzo e non ci è mai riuscito, anche qualcun altro poteva immaginare di diluire questo disavanzo e non ci riuscì mai. E' certamente più semplice arrivare all'approvazione di un bilancio quando la rigidità sia pure limitatamente, ma scende, ovvero quando si liberano alcune risorse, tutti i consiglieri, me per primo, riescono a dare delle risposte aggiuntive a favore degli abruzzesi e del territorio. Per questo e soprattutto per la tempestività, che di fatto è un risultato di tutti, ringrazio l'intero Consiglio regionale.